Summit dei vertici di Expo 2015 oggi a Milano, in Via Rovello. L'incontro è servito per nominare Robuschi come direttore dei lavori e cercare di superare lo shock degli arresti della scorsa settimana e il vuoto in infrastrutture lombarde senza accumulare pericolosi ritardi. Nuova ondata di profughi siriani. In centinaia hanno raggiunto Milano durante il fine settimana e l'assessorato guidato da Maiorino ha dovuto affrontare la nuova emergenza. Nella notte appena trascorsa tutti i profughi hanno trovato sistemazioni nelle strutture d'accoglienza. Anche Corso Venezia e i controviali della circonvallazione di Viale Romagna saranno zone 30. Lo ha deciso Palazzo Marino che così ampia l'area nella quale verrà introdotto il nuovo limite di velocità. Nel piano del comune anche la costruzione di alcune piste ciclabili. Paolo Bovi ha tentato il suicidio. L'extastierista e fonico del gruppo musicale dei Modà era agli arresti domiciliari con l'accusa di molestie sessuali su quattro ragazzini della parrocchia presso la quale svolgeva il ruolo di educatore all'oratorio. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. Partiamo da Expo. Dopo il terremoto ai vertici di infrastrutture lombarde la regione corre ai ripari per non accumulare altri ritardi nei lavori in vista dell'evento espositivo del 2015. Oggi infatti la nomina di un nuovo direttore dei cantieri. Stefano Fumagalli ci racconta tutto. Dopo la bufera di manette e indagini su infrastrutture lombarde è tempo di nuove nomine. I lavori per Expo non possono aspettare. Sarà Diego Riccardo Robuschi il nuovo direttore dei lavori della piastra di Expo in sostituzione di Alberto Porro che è stato interdetto in seguito all'inchiesta giudiziaria. L'annuncio del presidente della Lombardia Roberto Maroni. Il tecnico lavorava già al cantiere, ha esperienza nell'attività delle grandi opere. Maroni alla nomina ha aggiunto abbiamo garantito la prosecuzione dell'attività. E' uno che conosce Expo, conosce le problematiche e è assolutamente in grado per quanto ci riguarda di assumere questa responsabilità. Il nome è stato comunicato appunto al commissario Sala. Questa sera il consiglio di amministrazione farà le sue valutazioni ma sono certo che questa è la persona giusta. Il governatore ha anche detto che presto andrà in visita nella sede di Infrastrutture Lombarde per incontrare anche i dipendenti e dire che la regione non vuole smobilitare la società. Il ministro per le infrastrutture Maurizio Lupi ha detto che Antonio Rognoni, l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde arrestato nell'inchiesta, ha sempre dimostrato grande managerialità e esperienza e ha dato il suo contributo riguardo all'accelerazione dei lavori. Tra l'altro la presenza qui del prefetto, perdonatemi, sta a significare anche il fatto che sin dall'inizio tutti gli enti e tutte le istituzioni coinvolte hanno voluto che proprio Expo potesse avvenire nel massimo della trasparenza e nel rispetto della legalità perché stiamo lavorando in questa direzione. Poi ovviamente se qualcuno ha sbagliato partire ovviamente dalla politica fino ad arrivare ai tecnici ognuno si assumerà le sue responsabilità ma metto il periodo ipotetico davanti come giusto che sia. Intanto ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, l'ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde Antonio Rognoni arrestato giovedì scorso nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano della quale abbiamo sentito anche nel servizio di Stefano Fumagalli. Rognoni difeso dall'avvocato Francesco Centonze non ha rilasciato nemmeno sommarie dichiarazioni al GIP e nei prossimi giorni sarà interrogato dai PM. Restiamo in procura perché è stato chiesto il rinvio a giudizio per l'ex governatore Lombardo e senatore del nuovo centrodestra Roberto Formigoni accusato di corruzione e per altre 12 persone nell'ambito del procedimento con al centro la realizzazione di una discarica di amianto a Cappella Cantone nel Cremonese. Secondo l'accusa, oltre un milione di euro di presunte tangenti sarebbero arrivate alla Compagnia delle Opere di Bergamo su input di Formigoni. Dopo l'avviso di chiusura delle indagini notificato lo scorso dicembre, il procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo e i PM Paolo Filippini e Antonio D'Alessio hanno formulato la richiesta di processo a carico di 13 persone e anche di 5 società. Adesso torniamo a Milano. A Milano nel fine settimana sono arrivati centinaia di profughi dalla Siria. Stanotte l'assessorato alle politiche sociali è riuscito a trovare un tetto per tutti. Paolo Pirovano ha sentito l'assessore. Pierfrancesco Maiorino. Negli ultimi giorni a Milano ne sono arrivati 400, tra cui 60 bambini in attesa di una sistemazione si accampano alla stazione centrale stanchi e spossati dopo il viaggio in treno che li ha portati fin qui dal sud Italia. Sono i profughi siriani che attendono di ripartire verso il nord Europa, ma prima di rimettersi in viaggio chiedono ospitalità al capoluogo Lombardo e ai suoi dormitori pubblici. In 300 sono stati trasferiti nei centri di via Aldini e di via Fratelli Zoia. Ora i posti dei centri accoglienza sono esauriti. Dall'inizio dell'emergenza a Siria il comune ha assistito 2200 persone. Dalla Siria arrivano in Tunisia, poi si imbarcano per l'Italia senza alcun documento e da Lampedusa prendono il treno per salire a Milano, tappa precedente alla destinazione finale, Svezia o Germania, dove hanno parenti e amici. Bisogna assisterli, dice l'assessore alle politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Maiorino, che poi denuncia l'assenza di governo e regione. Già questa notte li abbiamo accolti tutti e siamo riusciti a sistemarli nei due centri che il progetto ARCA e il consorzio Farsi prossimo, cioè Caritas, gestiscono in convenzione con noi. Detto ciò siamo molto preoccupati perché il flusso può essere costante e continuativo e il governo non dà segni di vita su questo terreno. Quindi non capiamo se ha in testa un piano, se non ce l'ha, se pensa a ipotesi di qualsiasi genere utili sul terreno dell'accoglienza. La regione Lombardia non ha fatto nulla, non ha mosso un'unghia, anzi l'assessore a Bulbarelli aveva spiegato ad agosto che i profili non sarebbero arrivati, ribattendo delle mie preoccupazioni. È una previsione talmente azzeccata, quella dell'assessore, che oggi registriamo il numero di 2300-2400 circa profughi accolti dal 18 ottobre ad ora. Ha iniziato a scavare questa mattina la talpa che realizzerà il collegamento M4 fra l'aeroporto di Linate e il quartiere di Milano-Lorenteggio. Il progetto prevede la realizzazione di una metropolitana ad automazione integrale, senza conducente quindi, che collega lungo un percorso di 14 chilometri e 200 metri l'aeroporto di Linate con la stazione FS di Milano-San Cristoforo, per un totale di 21 fermate. Il cronoprogramma prevede 78 mesi di lavori per la messa in esercizio dell'intera tratta. L'assessore regionale all'infrastruttura e alla mobilità del Tenno ha ricordato che dal momento che i governi precedenti hanno tagliato del 30% i trasferimenti delle regioni, oggi è veramente difficile andare avanti. La Lombardia, unica in Italia, ha sopperito a questa mancanza con 400 milioni di euro di fondi propri, riuscendo in questo modo a garantire esattamente gli stessi servizi. Ora però, ha sottolineato del Tenno, con la messa in esercizio non è più possibile andare avanti. Si allargano le zone con il limite a 30 km orari. La Giunta Comunale ha deciso che anche Corso Venezia e i controviali della circonvallazione di Viale Romagna saranno zone 30. Verranno realizzate anche piste ciclabili. Il Comune di Milano ha dato il via libera ad altre due zone a velocità ridotta e così Corso Venezia e Viale Romagna diventeranno zone 30. Le zone con limite massimo 30 orari sono state concepite per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade da parte di ciclisti e pedoni, riducendo rumore ed emissioni inquinanti. L'impatto di un'auto lanciata a 50 km orari che investe un pedone o un ciclista lo uccide. La riduzione della velocità consente invece di ridurre drasticamente gli infortuni mortali e invalidanti. I dati statistici delle aree dove la riduzione è stata applicata lo dimostrano con evidenza, dicono a Palazzo Marino. Per ridurre la velocità, oltre alla segnaletica, vengono installati dossi, chicane, restringimenti, piattaforme rialzate che obbligano il veicolo a rallentare. Le zone 30 sono decise con i consigli di zona. Il primo degli interventi riguarda l'area tra Porta Venezia e Piazza San Babila ed è diviso in due parti. Tra via Palestro e via Senato saranno realizzate due piste ciclabili. Da via Senato a Piazza San Babila si creerà invece la zona 30, con allargamento dei marciapiedi che saranno completamente rifatti con una nuova pavimentazione in lastre di beola grigia. Il secondo progetto riguarda invece la realizzazione della zona 30 sui controviali di Viale Romagna. La carreggiata sarà sopraelevata all'ingresso dei controviali e in corrispondenza di particolari intersezioni. In alcune parti, spiegano a Palazzo Marino, i marciapiedi saranno allargati per rallentare la velocità dei veicoli. E adesso la cronaca. Sette giovani riconducibili ai Latin King, una delle gang storiche di giovani sudamericani, sono stati trovati armati fino ai denti in un giardino pubblico a Milano. Uno di essi di 21 anni aveva una pistola ed è stato arrestato, altri due di 20 e 17, tre coltellacci e un macete e sono stati denunciati in stato di libertà. I restanti quattro, tra cui un minorenne, sono stati solo controllati. La polizia ha sequestrato una beretta calibro 7,65, che avete appena visto nelle immagini, con sette proiettili e le armi bianche. Oltre alla pistola e le armi bianche, la polizia ha sequestrato anche un libretto che tratterebbe dettagliatamente i rituali di iniziazione della gang. L'opuscolo, che in copertina riporta l'effigie di una corona a cinque punte, uno dei simboli della pandiglia dei Latin King, è ora al vaglio degli investigatori. Per entrare nella gang bisogna superare i 3,64 minuti in cui da due a quattro componenti della banda devono picchiare il nuovo arrivato. Aveva raccontato su Facebook che un suo amico aveva trovato un microchip canino in una pietanza che gli era stata servita durante una cena in un ristorante cinese a Vigevano. Per questo l'uomo era dovuto andare in ospedale per una lavanda gastrica. Ma non era vero e la donna è stata denunciata. Gruppi che si sono definiti animalisti o amici degli animali e giornalisti in cerca di maggiori dettagli avevano scatenato una discussione sul social network e la donna, per rispondere a chi definiva la vicenda una bufala, aveva aggiunto altri particolari per renderla più credibile. Fino a quando il ristoratore cinese, 39 anni, ha presentato denuncia, stanco della cattiva pubblicità che si era abbattuta sul suo locale. I carabinieri di Vigevano hanno quindi verificato l'infondatezza della notizia e la 31enne è stata denunciata per diffamazione aggravata a mezzo internet. Ha tentato il suicidio Paolo Bovi, l'ex tastierista e fonico dei Modà, agli arresti domiciliari con l'accusa di molestie sessuali su quattro ragazzini della parrocchia dove faceva l'educatore. Vediamo il servizio. Dopo lo shock, la vergogna e la disperazione, Paolo Bovi, ex tastierista e tra i fondatori del gruppo musicale dei Modà, accusato di molestie nei confronti di quattro ragazzini minorenni, ha tentato il suicidio la scorsa notte dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, manomettendo il braccialetto elettronico con un cacciavite. Poi si è rifugiato in auto, forse sotto l'effetto di alcol, e ha collegato il tubo di scappamento dell'auto all'abitacolo. Il salvataggio in estremis è avvenuto grazie ai carabinieri di Cassano Dadda che intervenuti per verificare il segnale di allarme lanciato dal braccialetto manomesso hanno trovato poco dopo l'uomo. La storia di Bovi, 40 anni, aveva fatto scalpore a gennaio di quest'anno quando era stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali su quattro bambini tra i 13 e i 16 anni della parrocchia dove svolgeva ruolo di educatore. I fatti risalgono al 2011 e Bovi era già stato allontanato quando il prete aveva saputo di quanto riferivano i genitori. Il ragazzo però aveva continuato con il suo lavoro nel dietro le quinte della famosa band con il ruolo di fonico. In credula la reazione dei componenti del gruppo che si erano detti agghiacciati e che avevano detto di non aver mai avuto il benché minimo sospetto. I PM di Milano, Cento e Mi Nutella avevano chiesto la custodia cautelare in carcere per Bovi ma il GIP lo aveva posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico perché aveva riqualificato i fatti come di lieve entità poiché non si era trattato di rapporti sessuali completi ma di molestie e toccamenti. Una cinquantina di lavoratori licenziati dalle società Green Fluff e Innova Service che operavano sull'area dell'ex Alfa Romeo di Arese stamani hanno bloccato l'ingresso del cantiere dove è in costruzione un centro commerciale del gruppo Iper. Gli ex dipendenti hanno organizzato un presidio con bandiere e striscioni impedendo l'accesso ai camion. Sono in programma investimenti da milioni di euro sull'area e nuove assunzioni, ha spiegato Corrado delle Donne storico coordinatore dello Sly Cobas. Chiediamo che i lavoratori licenziati vengano ricollocati ad Arese come prevede anche una sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano. Si chiama Dada ed è a due passi dalle colonne di San Lorenzo a Milano. È il primo asilo attrezzato per ospitare i bambini anche di notte venendo incontro alle esigenze di genitori che per lavoro, medici e infermieri innanzitutto, ma anche badanti e altre categorie, hanno bisogno di lasciare i loro figli a dormire in una struttura sicura accuditi da professionisti. Le immagini che vedete sono del sito di Repubblica. Il servizio per ora unico in Italia costa sui 90 euro al giorno ed è aperto a tutti, non solo ai genitori i cui figli frequentano già la scuola. Basta di fatto una telefonata o una mail per verificare la disponibilità di uno degli otto posti letto, che presto diventeranno di più, dice la responsabile. Durante la notte sono presenti sempre due persone qualificate. A Milano si è svolta la finale italiana di Young Business Talent, una competizione in cui gli studenti delle scuole medie e superiori si sono cimentati nella gestione di un'azienda. Ha vinto una scuola di Milazzo in Sicilia. Vediamo il servizio. La sfida, prendere decisioni di ogni tipo all'interno di un'azienda perfettamente riprodotta in maniera virtuale, ponendosi in concorrenza con altre aziende. Così 75 squadre di ragazzi provenienti da tutta Italia si sono confrontate a Milano nella prima edizione di Young Business Talent, la competizione dedicata agli aspiranti imprenditori del futuro, tutti giovanissimi studenti provenienti dalle scuole superiori italiane. Il Talent è iniziato nel novembre 2013 con 1.750 partecipanti suddivisi in 500 squadre e si è concluso nel weekend alla Pelota di Via Palermo 10 nel capoluogo Lombardo. I ragazzi si sono sfidati in tre distinte manche attraverso l'utilizzo di un simulatore di business molto avanzato realizzato da una società spagnola. I ragazzi, oltre ad un'esperienza formativa e orientativa importante, hanno potuto aggiudicarsi premi di tutto rispetto. Le 15 squadre che meglio si sono classificate nelle simulazioni della finale hanno ricevuto ognuna 500 euro. Inoltre a 5 squadre, i primi classificati dell'ITC Leonardo da Vinci di Milazzo, i secondi dell'ITC di Loano, i terzi del Gramsci di Venezia, i quarti del Mattei di Castro Villari, è stato riconosciuto il merito di aver raggiunto il massimo profitto accumulato e questo ha permesso loro di ottenere un premio speciale 1000 euro per la prima, 900 per la seconda e via via a scalare fino alla quinta che ha ottenuto 600 euro. La squadra prima classificata parteciperà alla finale internazionale a Madrid il 10 maggio prossimo. E prima di chiudere e di salutarci, torniamo un attimo alla notizia di apertura o quantomeno all'ambito che è quello di Expo. Un percorso fotografico di 160 immagini e un'esposizione di abiti tradizionali. È la mostra L'Affascinante Shanghai, inaugurata oggi a Milano nella cornice di Palazzo Morando e in programma fino al 30 marzo. Ideale passaggio di testimone fra le due città toccate dall'Expo. Milano e Shanghai trovano in Expo 2015 l'occasione per rafforzare la collaborazione cementata in 35 anni di gemellaggio che vengono celebrati proprio quest'anno. Ha detto oggi all'inaugurazione il sindaco del capoluogo Lombardo, Giuliano Pisapia. Con lui anche il commissario unico per Expo 2015, Giuseppe Sala e il segretario generale del BIE, Vicente Loscertales. Il percorso espositivo si snoda lungo 160 immagini. Abbiamo detto che raccontano l'edizione cinese di Expo. Le vedete queste immagini e la partecipazione italiana e lo sviluppo della città in seguito alla manifestazione. C'è anche un video come vedete in queste immagini. Prima di chiudere, di salutarci, vediamo quali sono gli appuntamenti per questa sera sui nostri teleschermi. Dopo il telegiornale Il Meteo andrà in onda Nova Stadio Sprint. In conduzione c'è Luciano Rindone. Tanti gli argomenti che verranno approfonditi. A partire dal rinnovo di Prandelli come CT della Nazionale e quello di Guarin come giocatore dell'Inter. Ma anche l'infortunio di Desciglio che lo toglie di mezzo almeno sicuramente per la trasferta di Firenze, importantissima anche per il futuro di Clarence Hedor sulla panchina rossonera. e quindi una puntata davvero interessante che vi consigliamo ovviamente di seguire. Poi alle 20.30 la politica con linea d'ombra. Adriana Santa Croce si occuperà ovviamente di quanto accaduto ai vertici di infrastrutture lombarde e quindi delle ripercussioni che questo potrebbe avere sul futuro di Expo 2015 e di tutti quelli che sono i risvolti anche per le infrastrutture che a questo evento, quello del 2015, sono collegate. Bene, per questa edizione del TG è davvero tutto. Il meteo dopo di noi e poi Nova Stadio Sprint. Buona serata da parte mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.